Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Potrebbe rivedersi in campo in mano al Giabuà, domenica pomeriggio all'Adriatico con inizio alle 17.30 nel Pescara di Zeman contro il Monopoli nella penultima gara del campionato regolare prima dei play-off promozione. Il centrocampista in prestito dall'Atalanta, affermato da un infortunio ancora mai stato disponibile per l'allenatore Boemo che nel suo sistema di gioco ha sempre previsto insieme all'uomo d'ordine. E Regista Basso, che anche stavolta sarà Palmiero, e Alamezzala, che sarà Raffià, un uomo di quantità. Potrebbe toccare proprio a Giabuà, ormai guarito, il compito di spezzare le azioni avversarie contro i pugliesi che arrivano all'Adriatico ormai certi del settimo posto e che hanno conquistato i play-off. Discorso diverso per il Pescara che i play-off li ha sì conquistati matematicamente ma che punta a saltare la prima fase della competizione dalla quale uscirà una sola promossa e arrivare direttamente a quella nazionale saltando i primi due turni. Per farlo deve necessariamente conservare il terzo posto, ora in bilico, dopo il KO di Taranto con un solo punto di vantaggio sul Foggia di Deglio Rossi, appena approdato sulla panchina dei Rossoneri. Giabuà è l'alternativa a Krasia, mentre Raffià, per le sue caratteristiche e la capacità di saltare l'uomo, sarà titolare fondamentale per scardinare la difesa del Monopoli in una partita che il Pescara ha l'obbligo di vincere. In difesa ha squalificato Crescenzi, ma Zeman recupera Brosco e Milani, mentre una leggera influenza ha colpito in settimana Cancellotti e Germinario, oltre a Delle Monache e De Zogus in attacco, tutti comunque recuperati. Nel Monopoli tra gli ex potrebbe trovare spazio Mirko Drudi al posto dello squalificato Bizzotto, con l'ex pescarese che negli ultimi due mesi non è stato però mai utilizzato, mentre l'altro ex Carlo Delisio sarà certamente titolare.